De Luca è un buon amministratore regionale, ma in sanità allo Stato solo buchi e non solo perché è mancato per otto mesi il commissario di governo, perché De Luca poi si è espresso in questi mesi. Io so solo dire che lui opera bene nel resto delle attività regionali, non in sanità.